Fortunati amici spettatori siete alla visione di Alza il volume. Come spesso si sente dire le copertine attirano il lettore dal banco, sembrano quasi chiamarti. E' il caso per me di questo libro di Antonio Manzini, tutti i particolari in cronaca. Vedete? Guardiamo bene la copertina. Ecco una copertina che sicuramente attrae l'attenzione, non passa inosservato. Poi se come in questo caso anche il libro è bello, beh il gioco è fatto. Vi leggo di questo libro la retro copertina proprio per spiegarvi in due parole cosa leggerete in questo libro. Due delitti in apparenza slegati, un archivista con un segreto impossibile e un giornalista che dovrà chiedersi da che parte stare. Non c'è molto altro da dire su questo libro. Vale davvero la pena leggerlo. Il secondo libro si intitola Cicatrice di Juan Gomez Jurado. E' un libro anche questo, un giallo, un giallo che vi permetterà veramente poco tempo perché avrete sempre voglia di continuare a leggere. E' davvero incalzante. Una domanda su tutte. Conosci davvero chi ti dorme a fianco? Non c'è da dire molto altro. Signore e signori, alza il volume.